ciao allora benvenuti in un nuovo video oggi torno a parlare di lo kiro ebbene sì perché hanno cambiato alcuni dei personal shop e mi hanno chiesto vuoi provare con un altro personal shop e secondo voi dico ma ci devo pensare ovviamente sì ovvio quindi eccoci qui di nuovo con loro e della scatola ho solamente tolto i dati personali ancora chiusa per vedere con il nuovo personal shop perché cosa hanno pensato per me se non sapete di che cosa parlo di lo kiro quindi di questo ed è servizio di abbigliamento di personal shopper io ho fatto il primo video dove ve ne parlo e vi spiego tutto il dettaglio ma vi ricordo che è ancora valido il mio codice sconto che trovate qui sotto in info box per avere 10 euro di sconto sul vostro primo acquisto ma ora diciamo che l'apriamo perché è bella grande e vediamo che cosa hanno pensato allora vediamo cosa c'è soliti fogli aspettate non so come metto che non cada tutto ok soliti fogli con solite cose dunque questo che ci interessa sono stefano il tuo nuovo personal shopper già stefano dunque in questa box selezionato per te un look fresco ed elegante per il lavoro con la t shirt rossa da abbinare al pantalone fantasia street e versatile e questo è il primo look vediamo quindi i primi prodotti lo apriamo perché sono qua dentro apriamo proprio come apro io e appoggio allora ah quindi questa è la t shirt mi sembra un po grande il marchio è cks contemporary case style questo qui il prezzo è di 34,99 ed è una m allora il materiale è bello però mi sembra un po grande sinceramente ma adesso vediamo poi dice riprendo il foglio di abbinarla con il pantalone fantasia di seasons allora fantasia e fantasia seasons esatto è sempre una m e 34 e 90 allora il tessuto è molto sottile e trasparente vediamo come sono fa hanno l'elastico in vita ma anche il bottone hanno il bottone finto il bottone finto quindi sono proprio con l'elastico in vita sono carini hanno la finta tasca dietro e sono lunghi e finiscono così allora sono devo dire che sono abbastanza trasparenti non so e sinceramente questa fantasia non mi piace ma proprio per niente però ci potrebbe stare come colori che dite proviamo la maglietta o la proviamo dopo dopo scusate sono larghi molto larghi forse proprio estivi sicuramente i pantaloni non mi fanno impazzire ma la maglietta mi sembra grande vabbè comunque proviamo dopo andiamo avanti con il secondo look candetto secondo look formato dal top rosa di villa e pantalone morbido di desiris utilizzabile anche per la stasera assieme al cardigan verde prato il mistolino adatto alle serie più fresche puoi anche arricchire tutto con qualche accessorio ok allora andiamo avanti con mettiamo via quali secondo look quindi mi sta uscendo tutto apriamo questo ok il top rosa carino allora villa nos villa taglia una m viene 29 99 è carino grande comunque come si si infila proprio così no a un bottoncino eccolo qui a un bottoncino esatto bello largo vaporoso ci può piacere per il secondo look poi abbiamo detto il pantalone vediamo il pantalone che è questo di desiris eccolo qua sempre una m 49 e 95 blu sembra con l'elastico vedo che ha le tasche vedo che anche questo è molto trasparente ecco è larghissimo cioè quasi a palazzo sì ma è largo a però il fondo è molto largo secondo me questo qua finisce prima della scusate mi alzo esatto mettendolo qua uno non mi piace perché è larghissimo due mi finisce sopra la caviglia sopra la caviglia e non non mi piace non ci piace immaginavo che i pantaloni sono un po' particolari poi cos'altro dice il cardigan verde prato carino è di sylvia itch bailocchiero questo foglio qui ah summer è una m 33 e 80 carino semplice semplice però cosa dice di essere il lino aveva detto che era il lino c'è la composizione di ingredienti da qualche parte la composizione di ingredienti perfetto sì effettivamente 67 viscosa e 33 lino il misto lino giusto ok allora io direi iniziare a vedere le magliette perché i pantaloni abbiamo già visto che non ci piacciono quindi vediamo le magliette vediamo perché secondo me è la prima che dicono per il lavoro la vedo molto larga proviamo e vediamo ed eccoci qua allora la maglietta alla fine non è neanche troppo larga si un po' larghina ma diciamo che è bella fresca ci può anche piacere dunque volevo metterli con i pantaloni ecco per farvi vedere l'abbinamento che sarebbe così quindi di fantasie perché a me non piace non piace proprio lo stile di questi pantaloni però la fantasia ci può stare direi che andiamo avanti con le prossime prove vediamo i pantaloni dell'altro top non mi piacciono il top questo qua mi sembra carino ed è il cardigan andiamo avanti vediamo ed eccoci qui ma questa è carinissima cioè è bella bella frufru bella larga allora ha il dettaglio di questo bottoncino carina ah e lo so che le riprese non sono il massimo per farvi vedere la lunghezza quindi è bella larga qui e poi vado avanti così e così è carina oltretutto chinandomi non si apre neanche i bottoni sono nei punti giusti arriva fino a qui con i bottoni sì questa mi piace mi piace è bella leggerina è bella sottilina magari con un altro tipo di reggiseno però è un frufru che mi può piacere loro dicono di metterla con questi pantaloni effettivamente quel blu ci sta ci sta ma noi andiamo avanti perché finché sono così voglio vedere il cardigan eccolo questo qui lo mettiamo in diretta ma non esageriamo adesso in diretta è carino no posso dire che non mi piace perché è cortino leggerino non mi piace però sta bene con questa ma sta così ecco leggerino cortino voi che dite lascio la parola a voi allora forse l'avrei preferito a questo punto più corto in cintura oppure più lungo è quella via di mezzo che non capisco mi piace molto il top sotto dire il vero però adesso voglio sapere anche da voi che cosa ne pensate dell'abbinamento non so forse da tenere aperto così così è meglio un po' molto sicura ecco io ci metterei una cinturina qualcosa veramente però non è malvagio pensavo è una cosa diversa ma non è malvagio ecco allora scusate mi sto sciogliendo scusate ma mi sto sciogliendo allora dunque no e sono impresentabile così o si può fare ecco un colore forse che mi sbatte un pochino che dite va bene torniamo a noi e rieccoci allora adesso che ho visto questa punta di rosa sì posso confermare che questa punta di rosa è molto delicata ma sbatte un pochino mentre questo è un'altra punta di rosa questa è proprio è la base dell'armocromia vedete come è più bianca non è il mio colore però ci sta vediamo questa allora dunque io adesso sono curiosa di sapere da voi ed è quali palotti vi piacciono quali dite che detengo quali da rendo se c'è qualcosa che tengo se c'è qualcosa che rendo fatemelo sapere voi ed è fatemi sapere anche se questo cambio di personal shopper ha dato un attimo una ventata di novità allo stile e c'è una cosa che ho notato sui pantaloni non ci prende nessuno ma perché ha uno stile molto particolare le maglie pensavo che fossero più grandi e invece viste sono belle larghe e ampie per l'estate e ho notato soprattutto che i prezzi sono più contenuti quindi è riuscito a trovare qualcosa con un prezzo più vantaggioso più accessibile perché avevano trovato anche delle sciarpe a 45 euro è più onesto come prezzi per il resto carino come servizio vi ricordo sempre il codice sconto di 10 euro qui sotto in descrizione ed è basta ci vediamo nel prossimo video ciao ehi sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino mi raccomando mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale solo così potrei ricevere un regalino da me lo sai che estrargo ogni mese ciao 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 ciao